salve a tutti amici e amiche oggi qualche aggiornamento in tempo reale della situazione nei cieli d'europa da giorni infatti continuano i voli delle più importanti logistiche nato ed europee e americane nel nord est dell'europa le attività che vi mostro sono concentrate proprio fra polonia lituania e lettonia in quello che sembra un lavoro di controllo dello spazio aereo ma oserei dire proiettato in particolare per scansioni continue e raccolta di informazioni di dati di intelligence sulla bielorussia e il nord dell'ucraina tengo a precisare che per logistica si intendono tutti quegli aeroplani che servono per la raccolta di informazioni da guerra elettronica scansioni radar rifornimento in volo e quant'altro insomma sono gli assetti più preziosi per la copertura dello spazio aereo e della sua proiezione perciò i dati che vi mostro su flight radar oggi bisogna leggerli al negativo come si dice cioè dobbiamo dedurre la presenza di moltissimi altri aerei nascosti che ovviamente non comunicano la loro posizione e il loro percorso sulle rotte commerciali come questi che si vedono in chiaro cioè per intenderci se un aereo cisterna vola in questa posizione è presumibile che ci sia almeno una dozzina di aerei come intercettori e caccia multiruolo in azione nei ruoli di pattugliamento nelle vicinanze segnalo anche la presenza di f16 belgi in volo sopra la norvegia questa mattina in questa posizione che vi mostro ora sappiamo che questi aerei verranno dati all'ucraina quindi ho il sospetto che stamattina abbiano fatto delle esercitazioni insieme ai griffen svedesi euro fighter inglesi ed f15 americani anche questi sono stati molto attivi in questi giorni e generalmente partano partono dal sud dell'inghilterra cerco di mostrarvi i loro percorsi sulla mappa e provo a farlo anche lentamente dato che qualcuno nei giorni scorsi mi ha fatto notare che muovo il cursore e la mappa troppo velocemente a proposito prima di continuare vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace anche a questo video il vostro supporto è fondamentale per aiutarmi a continuare a fare questo lavoro sotto il video troverete tutti i pulsanti di youtube per sostenermi quindi grazie davvero in questi giorni ci sono stati alcuni sviluppi interessanti che riguardano la crimea in particolare le forze equraine hanno colpito l'aeroporto a sud di saki in crimea base di partenza di aerei russi come il su 30 e su 34 e 35 anche se come vedete ci sono anche dei cimeli come il su 24 hanno distrutto un aereo al suolo ma sono stati visti anche diversi incendi sull'aeroporto in queste immagini un altro fra l'altro oltre a questi danni riportati all'aeroporto di saki nei giorni scorsi un altro su 34 è andato distrutto e anche un elicottero d'attacco mi 28 che è un po un analogo della pace americano anche se più grosso e pesante questi ultimi due aeromobili sono andati distrutti a causa di avarie comunque l'aeroporto di saki in crimea è stato raggiunto da un attacco di droni ucraini che hanno colpito le aree di parcheggio e le taxi nei giorni e mesi scorsi altri aeroporti della crimea sono stati raggiunti da droni e in particolare è avvenuta è stata segnalata più volte la distruzione di siti s 300 ed s 400 a sentire le notizie locali della crimea che operano fondamentalmente per l'ucraina i russi stanno muovendo i loro sistemi di difesa principali lontano da queste basi militari in realtà per supportare il ponte di kersk ne ho già parlato di questo ponte nei video precedenti che è uno snodo cruciale per la loro logistica a sostegno dell'invasione questa scelta apparentemente infelice sembra essere più un compromesso dovuto al fatto che hanno perso molti dei loro sistemi di difesa a lungo raggio più preziosi che sono fra l'altro difficilmente sostituibili e preferiscono evidentemente rinforzare il ponte piuttosto che le basi militari questo non significa che lasceranno gli aeroporti indifesi ma riducendone la capacità difensiva li espone ulteriormente ai droni ucraini dalle crimea poi arrivano anche notizie per cui la popolazione civile sta scappando in massa dalle località turistiche e questo è un bene diciamocelo perché è segno che qualche notizia che esiste una guerra in corso è arrivata anche a loro dato che da parte russa va tutto bene non c'è nessuna guerra di invasione in corso continuiamo invece con le notizie la scorsa notte un altro attacco con droni ucraino ha colpito una raffineria nella regione di kersk uno dei più grandi depositi di petrolio russo utilizzato fra l'altro per il rifornimento dei mezzi militari quindi è stato un obiettivo strategico non è il primo deposito che gli ucraini colpiscono con successo e questo poi va anche visto come successo strategico che si applica alle sanzioni già in corso fra l'altro i droni turchi che sono i responsabili di questi attacco a lungo raggio che l'ucraina sta usando con successo si stanno dimostrando molto efficaci proprio per la loro capacità di volare a lungo ed è di essere praticamente invisibili ai radar perché sono oggetti molto piccoli non hanno quasi per niente componenti metalliche sono quindi molto difficili da individuare e possono arrivare molto lontano altra notizia interessante ieri c'è stata la celebrazione della giornata della marina in russia a san pietroburgo sia ieri che oggi è interessante vedere come i droni a lungo raggio di sorveglianza americani e un aereo river joint stanno svolazzando tranquillamente a meno di 200 chilometri da queste zone in cui avvengono queste celebrazioni ora il river joint è veramente un aereo particolare diciamo che il suo ruolo principale è l'ascolto chi vuole intendere intenda comunque è molto interessante che in questa parata mancassero guarda caso tutte le navi che sono state dichiarate distrutte o colpite dagli ucraini quindi ecco è una prova per una volta la propaganda russa e comunicati stampa ucraini sono praticamente simmetrici possiamo incrociare i dati c'è stata poi un'altra conferenza di putin in questi giorni riportata ahimè in modo molto disarticolato anche dai giornali italiani che hanno parlato del fatto che se gli americani forniranno missili da crociera agli ucraini anche la russia farà altrettanto secondo putin ovviamente queste dichiarazioni riportate a mezzo stampa in italia mi fanno sempre cadere le braccia sono due anni e passa che gli ucraini lanciano missili da crociera europei e lo stesso fanno i russi voglio dire con lanci continui di messi da crociera contro le città ucraine però insomma anche i russi hanno utilizzato tranquillamente i taurus contro bunker di comando e infrastrutture nei territori occupati quindi di cosa stanno parlando le dichiarazioni di putin in realtà riguardavano piuttosto la presenza dei b 52 americani aggiuntivi questi sono stati aggiunti questi pacchetti di aerei sono stati aggiunti a quelli che normalmente esistevano già e che hanno fatto scalo in germania quindi putin ha espresso diciamo la sua preoccupazione o il fastidio di vedere questi aerei volare in germania perché potenzialmente potrebbero trasportare ordini atomici quindi putin ha detto che se questi bombardieri nucleari porteranno armi nucleari in germania anche la russia farà lo stesso sui propri confini già ha detto proprio così peccato che sono anni che la russia ha messo il suo arsenale in bielorussia che è abbastanza ridicolo dire questa questa cosa e che è proprio a causa di questo arsenale e delle esercitazioni con armi nucleari in bielorussia di 15 giorni fa che la nato ha risposto rinforzando la sorveglianza con i b 52 che per dovere di cronaca trasportano missili da crociera non bombe nucleari perciò come sempre bisogna ricordare che ad azione risponde reazione e chi è causa del suo mal pianga se stesso come si dice nei giorni scorsi sono arrivate altre immagini dei gloriosi bradley ucraini immagini che non vi posso mostrare ma signori questo piccolo carro leggero con la sua torretta da 25 millimetri si è dimostrato molto efficace molto più efficace di tanti carri pesanti in battaglia già nella seconda guerra del golfo i bradley avevano dimostrato ampiamente la loro bontà costruttiva ma oggi vederli in azione contro i russi che cercano di avanzare insomma è veramente qualcosa di straordinario nessuno si sarebbe mai immaginato un successo operativo del genere in un c'è anche il famoso video in cui un bradley fa fuori un t90 russo che sembra un po la battaglia di davide contro golia comunque nell'ultimo video dei bradley ucraini c'è questo bmp russo pieno di fanteria al suo interno che cerca di sfondare come al solito e viene preso di mira dalla torretta di 25 millimetri del bradley questo bmp russo inizia così la sua fuga ma il tiro rapido del cannoncino lo colpisce ripetutamente e prende fuoco il bmp a questo punto continua per un po per inerzia ma ormai è un rottame in fiamme arrivano altre nove novità da voi chask dove gran parte della città ormai è stata liberata rimangono solo alcuni quartieri in mano ai russi da parte russa invece continuano ad avanzare le truppe lentamente conquistando campi e piccoli villaggi e per esempio qui sono riusciti a raggiungere il piccolo villaggio di vesele per quello che sembra in quest'area un attacco diretto alla città ben più importante di petrovinsk è importante notare in questo settore che i russi sembrano aver rinunciato a raggiungere lo snodo stradale che era un importante punto per la logistica per concentrarsi invece verso sud ovest e quindi è molto probabile che rendendosi conto che verso nord le fortificazioni ucraine erano troppo forti abbiano ripiegato in direzione sud ovest riuscendo ad avanzare di un paio di chilometri mentre a nord erano bloccati da mesi quindi vedremo come reagiranno gli ucraini a questo cambio di direzione in quest'area nei prossimi giorni anche nella città di krasnarowiska i russi hanno ormai occupato praticamente l'intera città ma da qui a dirigersi verso ovest per loro sarà molto molto dura perché gli ucraini hanno rinforzato molto le difese per questi villaggi verso ovest fra l'altro tutti gli attacchi condotti in questa direzione sono stati respinti nei giorni scorsi con perdite devastanti da parte russa ovviamente questo non li ferma dato che l'operazione militare speciale russa no non è una guerra quindi nessuno ne accorge nessuno se mancano migliaia di persone ogni giorno all'appello a parte questo non ci sono altri cambiamenti significativi dal fronte e ora parliamo un poco di pace proprio così perché in tutto questo la russia si ha parlato proprio di pace lo stesso ha fatto l'ucraina insomma tutti in occidente parlano di pace e anche i cinesi parlano di pace quindi che sta succedendo siamo davvero vicini a dei negoziati se dovesse chiederlo a me io non credo proprio ma ecco è facile pensare che esista una sorta di confronto su questo tema e almeno un confronto in corso e che si parli di pace soprattutto quando i telegiornali a cui siamo abituati si limitano a copiare e incollare le notizie senza neanche verificarle ma come si dice no il diavolo sta nei dettagli quindi è meglio leggere attentamente fra le righe prima di credere a tutto quello che ci dicono certi politici soprattutto quando si parla dei negoziati di pace se prendiamo per esempio le dichiarazioni del cremlino loro sono davvero aperti ai negoziati di pace proprio così lo stesso orban quando ha incontrato putin un paio di settimane fa ha detto che putin è assolutamente aperto ai negoziati di pace sottolineando che quando parla di negoziati di pace intende sostanzialmente il piano che ha proposto il mese scorso dove appunto prevede la resa incondizionata dell'ucraina la cessione dei territori attualmente occupati e anche qualcosa di più la totale smilitarizzazione della stessa ucraina e in sostanza il paese deve ritirarsi dai propri territori e consegnare tutte le armi qualcosa del genere insomma come si dice la russia vuole tutto anche una fetta di sedere vicino all'osso come si dice a quel punto sarebbe felice di parlare di negoziati di pace insomma questi discorsi da parte di putin rasentano un po il ridicolo e che hanno l'unico effetto di creare incertezza sulla legittimità del governo di chiev non riconoscendolo e non riconoscendo la costituzione ucraina e questa narrazione da parte di putin che continua a ripetere mese dopo mese secondo lui con il tempo potrebbe aiutarlo a ottenere il controllo politico dell'ucraina infatti dimostra di non riconoscere il governo ucraino e quindi alla lunga secondo lui potrebbe aver ragione quindi questi sono i discorsi di pace da parte russa alcune delle parole chiaramente di questi discorsi vengono colte anche in occidente come positive o almeno da quelle persone che vogliono ascoltare solo quello che vogliono ascoltare da parte ucraina ci sono state più volte aperture per una negoziazione di pace zeleschi ha detto che è possibile o almeno che possa esserci una possibilità quando la fase calda della guerra possa finire entro la fine dell'anno e questo è un po in linea con molte previsioni sull'andamento delle cose in generale con la pressione russa che potrà esaurirsi entro natale con inverno e da lì presto si potranno affrontare magari alcune alcuni degli aspetti in base alle negoziazioni anche queste dichiarazioni però sembrano molto ottimistiche comunque perché il governo ucraino sostanzialmente per negoziazioni intende che tutti i loro territori occupati gli vengano restituiti compresa la crimea cioè loro vogliono semplicemente il ripristino dei loro confini politici come da trattato con la russia nel 1994 la parte più importante dei discorsi di zeleschi da leggere fra le righe è che se la comunità internazionale resta unita e fa pressione sulla russia allora questa dovrà riconoscere prima o poi che è impossibile vincere questa guerra e quindi dovrà scendere a compromessi in questo caso dal punto di vista ucraino sarebbero felici di non liberare il territorio militarmente se si arrivasse a una soluzione pacifica di negoziazioni in sostanza i negoziati da parte ucraina vertono su come la russia potrebbe ritirarsi dal territorio ucraino né più nemmeno quindi insomma abbiamo visto le loro due versioni entrambe le parti sono aperte a dei negoziati secondo i loro termini la russia vuole la capitolazione dell'ucraina l'ucraina vuole semplicemente che la russia se ne vada via dal proprio territorio e quindi per dirla in parole povere in questi discorsi non esiste nessuna vera apertura verso l'altra parte e quindi se russia l'ucraina non si sono effettivamente mosse dalle loro opposizioni le loro dichiarazioni opposizioni allora perché si fanno questi discorsi bene se dobbiamo puntare il dito su qualcuno su un responsabile di tutti questi dibattiti probabilmente è il candidato alle presidenziali americane proprio lui quello col capello cotonato come se tutta la politica internazionale ruotasse attorno alla politica americana insomma questi dibattiti saranno sempre più frequenti fino a dopo anche le elezioni di novembre presidenziali ma a parte questo apparentemente entrambe le parti sia russa che ucraina sembrano prepararsi alle circostanze e le possibilità che il capello cotonato vinca le elezioni e questo personaggio pittoresco che ha parlato spesso di come porterà la pace in ucraina e 24 ore non si capisce poi su come possa attuare un piano del genere in 24 ore ovviamente nessuno con un briciolo di sale in zucca può credere ad affermazioni del genere voglio dire mister t è il classico miliardario tronfio che fa discorsi populisti in fase elettorale voglio dire per definizione i discorsi populisti funzionano solo sul popolino non hanno niente a che fare con un reale programma di governo o quello che poi succederà realmente con il congresso americano soprattutto russia e ucraina non penso proprio che saranno disposte ad accogliere il programma di mister t che possa risolvere un conflitto in 24 ore almeno così a naso è opinione mia personale qualunque sia il piano del capello cotonato in realtà non porterà nessuna pace in 24 ore e soprattutto se il suo piano non funzionerà sarà tranquillamente capace di attribuire la responsabilità a una delle due parti a qualcuno o qualcosa e ovviamente nella russia nell'ucraina vogliono essere incolpati di questo quindi questi discorsi su negoziati di piace di pace servono sostanzialmente a sviare l'attenzione dalle proprie responsabilità e simulare che esista una sorta di volontà di pace a prescindere quindi insomma se il piano di mister capello non funziona la russia potrà incolpare l'ucraina di questo e allora magari mister t diminuirà o forse interromperà le forniture militari all'ucraina mentre invece se l'ucraina dovesse uscire come vincitrice nella dialettica politica del fantomatico piano di trump allora potrà incolpare la russia e ricevere così più aiuti militari quindi questo è un po il motivo per cui entrambe le parti fanno discorsi di questo tipo e si basa sostanzialmente di evitare il disastro se mister t venisse eletto ma questo come dire non è esente da rischi soprattutto per l'ucraina che è la parte lesa la nazione invasa ora a cose normali quando una nazione ne invade un'altra nel ventunesimo secolo tutto l'occidente dovrebbe fare tipo tabula rasa della nazione che invade ma come dire questa soluzione per quanto sia la più ovvia e ragionevole auspicabile vista la follia che pervade al cremlino non è attuabile lo sappiamo per i rischi annessi e connessi d'altro canto è abbastanza facile immaginare di trovarsi al posto degli ucraini che si vedono rosicchiare giorno per giorno il proprio territorio quindi possiamo capire nella loro mentalità un senso di urgenza e l'idea di cosa accadrebbe se la russia vincesse la guerra per questo motivo kiev ha bisogno del sostegno dell'occidente e con politici sani di mente che si assumano impegni a lungo termine nel sostegno al paese per me per almeno per vincere questa guerra di lavoramento quindi queste speculazioni sul conflitto e i negoziati di pace avranno continui aggiornamenti in base a come andrà la corsa per le elezioni presidenziali in america perché appunto sarà uno degli argomenti principali della campagna politica con ripercussioni ovviamente anche in europa dato che le principali testate giornalistiche semplicemente si limitano a copiare e incollare le dichiarazioni politiche quindi insomma sarà possibile vedere un'esasperazione dei toni se mister t sarà favorito o vincerà le elezioni e viceversa se invece fosse la harris la favorita potremo probabilmente vedere maggiore realismo nella dialettica della guerra su questi temi e questo è quanto per oggi come sempre fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti un abbraccio alla prossima grazie grazie grazie